Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento astrologico di oggi. Siamo lieti di accogliervi per esplorare insieme l'oroscopo del giorno. Grazie per essere qui con noi mentre analizziamo le influenze astrali che ci accompagneranno in questa giornata vincente. Siete pronti a scoprire cosa hanno in serbo le stelle per voi oggi? Che la vostra giornata sia colma di positività e prosperità. Segno Ariete Caro Ariete, è il momento di esprimere apertamente i tuoi pensieri, in modo che la tua vita diventi più fluida e chiara. La libertà è essenziale per te, ma è altrettanto importante trovare un equilibrio e prenderti il tempo necessario. Prosegui con calma, un passo alla volta. Sotto l'influenza astrale, vi troverete di fronte a sfide complesse nel conquistare il cuore della persona desiderata o nell'amore. Fate attenzione alla gestione finanziaria, specialmente se siete coinvolti in attività legate al denaro, alle vendite o al commercio. Dal punto di vista fisico, vi sentirete pieni di vitalità e di buon umore, quindi approfittatene. Potrebbero esserci tensioni con i figli, cercate di mantenere una comunicazione costruttiva. Il momento è giunto per fare una pausa, riflettere attentamente e pianificare le prossime mosse. È cruciale capire quali decisioni prendere, alcuni potrebbero trovarsi di fronte a stelle nervose e affrontare ostacoli inaspettati. Pertanto, è fondamentale mantenere la mente chiara e evitare azione impulsiva. Agire senza riflettere potrebbe peggiorare la situazione e mettervi in una posizione difficile. Se necessario, cercate consigli da persone fidate. Segno Toro Cari amici del Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, il passato sta bussando alle vostre porte attraverso un incontro o una telefonata. Siete visibilmente stanchi, e forse un po' di riposo in più vi farebbe bene. Prendetevi il tempo di recuperare le energie in vista della nuova settimana che vi attende. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, il tempo per pianificare il futuro è limitato. È importante agire con determinazione su ciò che avete in mente. Il consiglio è di accelerare il passo, poiché dalla seconda metà di febbraio potrebbero verificarsi fermi forzati, difficoltà economiche o altri problemi. Mantenete la lucidità e perseguite la vostra strada con determinazione. Guardare al passato amoroso non vi porterà da nessuna parte, apritevi a nuove opportunità. La vostra ambizione professionale è forte, e metterete un grande impegno per raggiungere i vostri obiettivi. La vostra abilità comunicativa potrebbe essere il vostro punto forte. Per quanto riguarda la salute, dedicate del tempo al benessere fisico con moderata attività fisica o attività rilassante. A casa, potreste sentirvi limitati in relazioni che non lasciano spazio, cercate di affrontare la situazione in modo aperto. Segno gemelli Cari gemelli, state percorrendo la strada giusta verso i vostri obiettivi, e ora siete pronti a affrontare qualsiasi sfida. Assicuratevi di consumare le vostre energie in modo equilibrato mentre perseguite i vostri obiettivi. Per coloro nati sotto il segno dei gemelli, la giornata richiede cautela. Evitate di provocare conflitti, poiché le cose potrebbero degenerare rapidamente. Mantenete un profilo basso e prestate attenzione alle parole e ai modi con cui vi esprimete. In ogni caso, aspettatevi alcune tensioni, ma non temete, avete le risorse necessarie per superare la tempesta e concentrarvi sugli obiettivi. Nell'amore, per fare un passo avanti, è importante apprezzare ciò che avete e preservare emozioni che danno significato alla vita. Sebbene il lavoro richieda molto impegno, sembra predisposto a portare risultati di grande successo a breve termine. Abbiate pazienza. La vostra salute sarà favorevole oggi, gli altri noteranno il vostro splendido stato fisico. Le stelle suggeriscono di non trascurare le questioni familiari, affrontandole con decisione e responsabilità. Segno Cancro Cari Cancro, siete entusiasti delle attività di gruppo e del lavoro di squadra. Mantenete l'atteggiamento positivo, ma fate attenzione a non irritare troppo coloro che vi circondano. Se necessario, cercate di controllare le vostre reazioni per evitare tensioni. Anche per voi, le ore attuali possono risultare complicate, ma evitate la paranoia. Le stelle potrebbero non essere particolarmente favorevoli, e potreste attraversare transiti passeggeri difficili. Tuttavia, a marzo le cose cambieranno, e potrete contare sui favori di Marte e Giove. Non temete, una grande carica di energia crescerà in voi. Nel frattempo, accettate con calma se le cose non procedono esattamente come desiderate, raggiungerete i vostri obiettivi gradualmente. In amore, potreste avere bisogno di un amico per affrontare eventuali conflitti non risolti. Al lavoro, potrebbe non esserci alcuna notizia nuova, ma tutto procede tranquillamente. Vi sentite bene con voi stessi, con una recente rinascita della stima personale che vi dona energia positiva. Le dinamiche familiari potrebbero essere tese a causa di discussioni genitori-figli, cercate di affrontarle con pazienza e comprensione. Segno leone Per i nati sotto il segno del leone, l'oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata ricca di promesse in amore. C'è un forte desiderio di recuperare il tempo perso. Sul fronte lavorativo, il pomeriggio si prospetta migliore, con la possibilità di cancellare il passato negativo e guardare al futuro con ottimismo. Avvertite l'impellente necessità di affrontare un'importante questione con qualcuno, dopo un periodo di turbulenze che preferite non lasciare irrisolto. È giunto il momento di ascoltare le vostre emozioni, anche se contrastanti, senza sopprimerle solo per accontentare gli altri. Ponetevi al primo posto nella vostra vita, specialmente considerando che ultimamente avete sperimentato un calo di energie, potrebbe essere persino utile consultare un professionista per valutare la vostra condizione psicofisica. Nel tumulto dell'amore, quando sembra che nulla segua i nostri piani, è tempo di cambiare prospettiva. Affrontate le sfide professionali con determinazione, potrebbero esserci liete novelle all'orizzonte. Con un surplus di energia che vi fa brillare, mostrate empatia per comprendere appieno i vostri affetti, anche quando i legami sembrano tesi. Segno Vergine Cari Vergine, per i prossimi due giorni cercate di affrontare le sfide con leggerezza, lasciando scivolare via le preoccupazioni. Per quanto riguarda il lavoro, se avete preso decisioni sagge in passato, ora potrebbero arrivare i meritati riconoscimenti. Mantenete la calma anche se le cose non vanno esattamente come desiderate. Nonostante un cielo ostile, è un periodo di riflessione profonda su ciò che realmente conta nel vostro cuore. Talvolta i vostri colleghi sembrano non sostenere le vostre idee, ma oggi è diverso. Con spirito tenace, il corpo resta indomito, immune da disturbi. Se amore e lavoro generano stress, cercate di non scaricare la tensione sulla famiglia, evitando ulteriori complicazioni e stress. È il momento di dedicare spazio ai sentimenti, trascurati di recente a causa di impegni lavorativi o personali. Venere si trova in una posizione favorevole e lo sarà per diverse settimane, quindi aprite il vostro cuore e cogliete le opportunità per socializzare e trascorrere del tempo con il partner. Incontri emozionanti sono possibili, soprattutto per i single, ma è fondamentale adottare l'atteggiamento giusto e non rinunciare all'amore in anticipo. Segno bilancia Cari bilancia, la giornata si prospetta faticosa, quindi non esagerate e concedetevi qualche momento di relax, specialmente nell'ambito amoroso. Sul fronte professionale, siete in una fase cruciale, quindi mantenete alta la concentrazione per ottenere soddisfazioni significative. Fate attenzione a non superare il vostro budget finanziario. State affrontando difficoltà fisiche e tensioni da troppo tempo, è necessario fare qualcosa per superare questo periodo e ritrovare un po' di serenità. Evitate situazioni che vi stressano e vi innervosiscono, cercate invece stimoli positivi e compagnie interessanti. Circondarvi di persone positive migliorerà presto il vostro umore, consentendovi di affrontare le sfide con maggiore tranquillità. In campo amoroso, la giornata richiede pazienza, empatia e gentilezza, poiché le stelle agitano le vostre relazioni. Alcuni colleghi potrebbero essere eccessivamente critici, ma il vostro spirito diplomatico vi guida nella programmazione di relazioni agevoli. Per quanto riguarda la salute, il vostro entusiasmo e l'attenzione all'alimentazione sono irresistibili. Evitate di giudicare familiari e amici per prevenire conflitti con le persone amate. Segno Scorpione Per i nati sotto il segno dello scorpione, l'oroscopo di Paolo Fox prevede una giornata entusiasmante per nuovi incontri, con un umore positivo che perdurerà fino all'inizio di febbraio. Se avete questioni legali in sospeso, le stelle sono dalla vostra parte per portarle a termine con successo. In caso di necessità, affidatevi a un esperto per un supporto aggiuntivo. Il periodo sentimentale è teso, soprattutto se da giorni non riuscite a ritrovare la serenità. Se vi sentite senza via d'uscita e avvertite la disperazione, potrebbe venire l'impulso di mettere in discussione o chiudere una storia. Tuttavia, è sicuro che sia la decisione giusta? Forse sarebbe preferibile prendersi del tempo o affrontare direttamente la situazione con la persona coinvolta, per capire come poter ricostruire il legame. Nel silenzio risiede l'oro, a volte è meglio non pronunciare parole impulsive che potrebbero ferire il partner. Dopo settimane di impegno, giungono finalmente buone notizie nel campo lavorativo. Godete della vostra ottima salute, protetti dagli astri contro le piccole avversità quotidiane. Nelle relazioni familiari, fate attenzione a evitare discussioni e tensioni e cercate la serenità. Segno Sagittario Caro Sagittario, nelle prossime ore avrai l'opportunità di esprimere i tuoi sentimenti a una persona a cui tieni profondamente. Sul fronte lavorativo, è il momento di cogliere le opportunità che si presentano. Accelerare il passo è fondamentale per evitare di essere sorpassato dagli altri. Le tue qualità sono un punto forte che puoi mettere in campo con fiducia. Domani potresti risentire di una flessione energetica, evita situazioni troppo stressanti. In questa giornata festiva, è consigliabile non esagerare e posticipare gli impegni più urgenti e gravosi alla settimana successiva. Nuvole capricciose sul volto dell'amore È consigliabile essere sinceri con chi ci sta accanto per evitare di rovinare la giornata. Sul fronte lavorativo, c'è chi prende le redini della situazione e chi, come te, osserva tutto con suprema ironia. Se ti sei dedicato recentemente al miglioramento della tua forma fisica, i risultati sono evidenti, il tuo splendore non passa inosservato. La gestione familiare richiede molta energia, quindi ricordati di dedicare del tempo a te stesso se ti senti soprafatto. Segno Capricorno Caro Capricorno, la giornata si prospetta interessante per gli incontri, con favore verso relazioni occasionali. Potresti ricevere improvvisamente una chiamata lavorativa importante, quindi preparati a cogliere al volo questa opportunità. È tempo di abbandonare l'atteggiamento riservato degli ultimi tempi e abbracciare l'opportunità di vivere il momento. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, domani si prospetta come un'altra giornata positiva durante un periodo particolarmente fortunato per te. Sarai chiamato a prendere decisioni coraggiose e significative, sia nel lavoro che nell'amore. Il cielo è la tua bussola, specialmente se appartieni alla seconda decade. Ti offre la scelta tra un amore autentico e uno effimero, una passione duratura e una bruciante ma fugace. Se al lavoro non ti senti motivato, valuta l'opzione di un piano B. Per la tua salute, segui una dieta mediterranea con verdure, cereali e pesce, una nutrizione sana e tutto ciò di cui hai bisogno per sentirti al massimo. Tuttavia, fai attenzione alla situazione familiare, potrebbe esserci tensione che rende difficile i rapporti. Segno Acquario Caro Acquario, secondo l'oroscopo di oggi, ti attende una giornata migliore, caratterizzata da una situazione astrologica positiva che perdurerà fino al 30 gennaio. Il sole nel tuo segno promette successo anche sul fronte lavorativo. È il momento di rimboccarsi le maniche e affrontare le sfide con determinazione. La tua mente è preoccupata per questioni finanziarie, la situazione economica attuale potrebbe non essere delle migliori e potresti essere impegnato a cercare di migliorarla. Tra oggi e domani, potrebbe esserti d'aiuto riflettere sui tuoi comportamenti di spesa. Se non ricevi supporto, c'è il rischio di spendere più di quanto potresti permetterti. Il cielo continua a scrutarti con occhi severi, mettendo in mostra i tuoi strumenti nella sfera amorosa. Giornate tranquille al lavoro, ma rimani vigile. Il benessere è al massimo, e il segreto è una dieta equilibrata con cibo naturale. In caso di eccessi, regolati con un pasto leggero a base di verdura e frutta. Se i legami familiari ti appesantiscono, concediti del tempo per distanziarti. Segno pesci Cari pesci, vivrai un periodo altamente favorevole nei rapporti interpersonali, con miglioramenti significativi. Sul fronte lavorativo, potrebbe essere necessario aiutare qualcuno o riparare a un errore commesso. È il momento di sistemare le cose e non arrendersi di fronte alle prime difficoltà. Per quanto riguarda l'amore, potrebbe non essere il periodo migliore, ma evita di chiuderti in te stesso. Se lavori nel settore finanziario o commerciale, hai il vento in poppa grazie a influssi celesti che assicurano bilanci sempre in ordine. Se sei nato nella seconda decade, potresti incontrare piccoli ostacoli a causa di un'opposizione planetaria, stai attento. Per la salute, sei in forma, radiante e pieno di entusiasmo. Dopo settimane di stanchezza, ti senti davvero bene. Se senti il bisogno di allontanarti da persone che ti appesantiscono, concediti la distanza necessaria. Buone prospettive in arrivo per te. È il momento di coltivare una storia ancora giovane, rafforzare un'amicizia o dedicarti a qualcuno che ti interessa. Se sei solo e confuso da un po', è ora di trovare il coraggio di fare nuove conoscenze, aprirti e lasciarti alle spalle ansie e preoccupazioni. Anche se può essere più difficile per chi ha appena vissuto una separazione, i pianeti sono dalla tua parte per un nuovo inizio.